Buongiorno a tutti, come presidente e direttore artistico dell'Associazione Festival Galuppi ho due cose da dirvi a tutti voi che ci seguite da anni e tutti gli appassionati di musica classica. Sono due cose diversissime. La prima, purtroppo molto brutta, è che quest'anno la 27esima edizione del Festival in settembre-ottobre non ci sarà, per ovvi motivi che sappiamo tutti i coronavirus, chiaramente. Questa è una cosa che dispiace molto, moltissimo direi, perché ci hanno lavorato tutti i collaboratori, tutte le persone che hanno creduto sempre alla nostra associazione, al nostro Festival e già a gennaio tutto questo era pronto e noi l'abbiamo messo anche sul nostro sito. Purtroppo la situazione è questa. Noi come piccola realtà ci dispiace, naturalmente, bisogna pensare invece anche ai grandi teatri e tutto il mondo della cultura che oggi si trova pressoché in ginocchio. Speriamo che appunto di poterlo riproporre questo programma, vorrei dire anche prestigioso sotto certi aspetti, l'anno prossimo 2021. La seconda, viceversa, che abbiamo pensato, che potrete trovare parte delle nostre riprese che abbiamo effettuato l'anno scorso, il Festival 2019, sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook. Lo metteremo il martedì e giovedì alle ore 17, sperando di farvi cosa gradita e che possiate godere chi l'ha sentito una seconda volta e chi non c'era presente possa goderlo. Ci dispiace ancora, però speriamo il prossimo anno sicuramente. Ciao a tutti, Alessandra Dettelli. Alessandra Dettelli 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 Grazie. 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 Grazie.